Dal basket al calcio, dal volley al rugby, anche per lo sport di Pesaro è un gennaio con più tamponi e quarantene che partite giocate. Il 9 gennaio, per la seconda domenica consecutiva, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro non scederà in campo. È infatti ufficialmente rinviata la trasferta in casa della Germani Brescia. Inevitabile con 5 giocatori della VL Positivi più un membro dello staff è anche per la mezza dozzina di nuovi positivi nella squadra di Brescia. La VL è attualmente in quarantena con la prospettiva di riprendere gli allenamenti da martedì. La prossima partita in calendario è al momento il recupero con Milano fissato per il 16 gennaio, ma la situazione resta in divenire. Nel calcio la Vispesaro passa da 4 casi positivi al Covid a 3, con 2 negativizzati e un nuovo contagiato. Situazione relativamente meno grave di una Serie C falcidiata dai contagi che dopo aver già posticipato il turno di questo weekend è ormai intenzionata a rinviare anche il turno del 16 gennaio per riprendere il campionato il 23. Nel calcio è già stata fermata l'intera Serie D per due settimane e ora l'imminente stop all'eccellenza di fatto ferma tutti i campionati dalla Serie C in giù. Passando al volley sono emersi quattro casi di positività al Covid anche nella Megabox Vallefoglia, una situazione che porta al rinvio a data da destinarsi del match di domenica 9 gennaio previsto ad Urbino contro la corazzata Imoco Conegliano. Chi se la passa peggio di tutti è probabilmente il rugby con la federazione che ha già sospeso ogni attività agonistica per tutto il mese di gennaio e ora la Fiorini Pesaro Rugby decide pure di dire stop agli allenamenti.